Eh? Sì? No, non faccio mai. No, non faccio mai. No, adesso posso. Grazie, grazie. Allora, secondo classificato del premio off, terza edizione del premio off di Adolfo Sardegno 2012, va preso. Secondo classificato è Teatro Bresci con lo spettacolo Arte. Grazie. No, adesso vi tocca... Noi siamo arrivati in secondi anche l'anno prossimo, quindi... Sì, grazie, è stato un piacere. Noi siamo arrivati in secondi l'anno scorso, ringraziamo il Teatro Stabile per averci dato la possibilità di partecipare nuovamente e ringraziamo la Giulia che ha premiato Anna, ha premiato lo spettacolo, ha premiato il nostro lavoro, che è iniziato nel 2009 e ogni giorno questi ragazzi, perché io sono la meno teatratte di tutti, però ogni giorno questi ragazzi lavorano con passione, con dedizione, perché questa è la loro vita prima che il loro lavoro. Quindi vi ringraziamo di questo nuovo riconoscimento. Grazie. 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 Grazie, complimenti. Spero di vedermi l'anno prossimo a questo punto. Eh, grazie. Ciao. Ciao. Complimenti. Complimenti.